Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Qui con i Vlogs Oggi sono qui per portarevi un video un po' diverso da quelli che sto portando Siamo un po' diversi da quelli che sto portando ultimamente Perché è una sorta di vlog con, diciamo, gameplay di sfondo Però il vlog non è collegato al gameplay Il gameplay è semplicemente una buona partita Tutto registrato insieme a Midino Una partita che in realtà doveva essere un video a parte Però ci sono stati dei problemi che io non l'ho portato In compenso che voi faremo altro a breve Quindi un gameplay giocato col faro E brevemente vi dico che cosa posso dirvi riguardo quest'arma È un'arma a tre colpi se non l'avete ancora provata Che è molto 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 forte Volevo fare anche un video in cui ve ne parlavo un po' così Però mi sembra un po' troppo ripetitivo rispetto anche agli altri video Quindi ho lasciato stare In compenso guardatevi il gameplay Guardatevi anche la mimetica che è veramente figa ragazzi Cioè mi piace troppo E niente Quindi appunto sono qui per fare due chiacchiere con voi Perché effettivamente sto caricando un sacco di video Ma proprio tanti Però non ho ancora avuto modo di parlare un po' con voi Ecco cioè sto caricando, caricando, caricando Due video al giorno Però non ho ancora avuto Cioè non ho avuto modo di interagire con voi Durate questi giorni Ecco questi giorni molto intensi In cui ci siamo visti spesso Perché effettivamente caricando tutti questi video Voi state vedendo molti miei video Quindi ci stiamo sentendo spesso Ecco in questo senso qua Però non stiamo parlando Quindi Volevo fare appunto un vlog di questo tipo Quindi come sta andando? Sta andando bene Molto molto stancante ragazzi Molto molto stancante Caricare due video al giorno Vi giuro che è una cosa stancantissima È una cosa Io non sono abituato Perché non l'ho mai fatto Però è molto stancante Ho gli occhi stanchi Forse si vede anche Però Cioè È devastante Però lo sto facendo con piacere Perché mi piace l'idea di caricare due video Ragazzi Mi piace proprio tanto Però Chiaramente non durerà per sempre È impossibile Però ripeto È molto 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 devastante Perché è molto devastante? Vi descrivo brevemente la mia giornata Tipo Al momento Come sapete non sto lavorando Quindi non ho nulla da fare tutto il giorno È la mia giornata Tipo È che mi sveglio E faccio No anzi Partiamo dal pranzo Ok Pranzo Mi collego E inizio a registrare A provare a registrare Provare perché? Perché Ci sono talmente tanti fattori Che separano il Me che provo a registrare E il video registrato Che non avete idea Per esempio Primo tra tutti Il fatto che non trova partite Quindi Cioè Non trova partite Perché i server sono straffollati Quindi Questo è il fattore principale Che ci separa Dal voler registrare un video Al registrarlo effettivamente E quindi appunto Capite benissimo Che se non trova partite Non posso fare praticamente nulla E questo è un problema Molto serio Perché c'è questi giorni Cioè Poi vi racconterò Apriamo un discorso a parte E poi vabbè C'è il fatto che magari Trovo partite Trovo i gruppi da sei Che mi rompono i coglioni Trovo partite magari Dove la gente campera Trovo partite che Magari Sono già finite Trovo mappe che non mi piacciono Trovo un sacco di fattori Che separano appunto Me tra Diciamo Il voler registrare un video Da averlo effettivamente registrato Oppure Semplicemente Gioco male Non riesco a fare una buona partita Capita Capita molto spesso Anzi Rispetto a quante c'è Il rapporto Il numero di volte in cui gioco Diciamo Scusate Il rapporto Delle volte in cui riesco a fare Un buon gameplay Rispetto alle volte in cui gioco È molto molto Diciamo piccolo Nel senso Quindi stavo dicendo Appunto La mia giornata è questa Mi collego Provo a registrare Ci provo per ore Tipo oggi Esempie domenica Ci ho provato tutta la sera E ho registrato un video Uno Più questo Che sto facendo adesso Però non lo conto Perché non era un video in programma Ecco Non era quello che volevo fare E questa è una sorta di video Tappabuchi Che spero vi possa piacere Comunque E ho registrato solo un video Perché non trova partite Quando in programma Ne avevo tantissimi Cioè se mi trovasse partite Non ci fossero questi problemi Ne avrei fatti troppi E starei avanti Con i giorni Cioè ve li porterei tranquillamente Quindi appunto Vabbè Ipotizziamo che registro il video Che ci metto tutta la giornata Registro il video Poi arrivano tipo le 8 E lì mi devo mettere a montare Montare non è neanche una cosa tanto luna Ci metto a fare i 40 minuti E poi quando ho finito Renderizzo Renderizzo E mi metto a caricare i video A questo punto Avendo una condizione abbastanza di merda Ci metto 5 ore A caricarli tutti e due 5 ore In cui devo tenere il pc acceso Ed è una rottura di coglioni Perché ho il pc a fianco al letto Quindi se mi viene sonno E devo dormire C'ho il pc con lui Che fa così a fianco a me E rompe il cazzo Andato a dormire Appunto mi sveglio E non è finita lì I video saranno caricati E io mi devo mettere lì A fare le copertine dei video Perché le faccio io E questa è una cosa Che mi prende almeno un'ora Perché non è che mi metto E faccio la prima minchiata con paint Mi metto lì a pensare Il video è questo Cosa potrei metterci nella copertina Come potrei farla Così non mi piace Così insomma Faccio le copertine Come se stessi facendo un quadro In pratica Cioè sono sempre lì a riguardare Un po' più a destra E lo sposto E quindi ci metto ore A fare anche quello E poi devo settare tutto il video Mettere il titolo Mettere un po' di cose L'annotazione Il programmano E poi si rinizza Rinizza la routine Questo per due video al giorno Ed è una cosa veramente lunga Ma perché questo principalmente Perché se voi mi seguite Cioè lo sapete che io non porto La prima puttanata che mi capita Porto video Cioè adesso Magari molti mi fucileranno per questo Con un senso logico Senso logico non nel senso Che deve essere qualcosa di sensato Nel senso che c'è un fine al video Nel senso Faccio un live con Jim Porto questo live Perché so che far ridere C'è qualcosa che diverte E che a voi piace Porto un video in cui vi parlo di un'arma Il senso è che vi parlo appunto dell'arma Porto un bel gameplay Il senso che ho fatto un buon risultato Porto un vlog Il senso che Devo tappare un buon No vabbè sto scherzando Porto un vlog Nel senso che vi dico qualcosa Cioè non vi porteremo a un vlog dove parlo di cazzate a caso Ci deve essere un senso E questo per ogni video Che vi stanno sui coglioni I video caricati tanto per caricare Tipo non vi caricherei mai che ne so Cioè mi sarebbe così facile Aprire il gioco E farvi vedere le modalità E dirvi ragazzi Questo è il nuovo Black Ops 3 Ci sono queste modalità Hanno messo questo Hanno messo questa funzione qua Sarebbe una cazzata Però sarebbe una minchiata Perché effettivamente Lo sapete fare anche voi Questo Non c'è bisogno che ve lo faccia vedere io Sono video proprio inutili E cerco di portarvi qualcosa di sensato Anche se molte volte può risultare non sensato Però effettivamente Dentro di me c'era C'è un'idea dietro Non è che Caricato a caso E appunto Questa è una cosa molto Molto lunga Molto lunga Questo che mi fa perdere Molto tempo Molto spesso Poi appunto Come vi stavo dicendo prima Oggi ci sono dei problemi con i server Oggi anche ieri Quindi io non sto trovando partite ragazzi Mi viene proprio da rompere tutto Perché Passo le ore a cercare partite Ci siamo organizzati con Midino ragazzi Siamo due giorni di fira Che ci organizziamo Per vedere c'è un'ora Per registrare E non troviamo un cazzo Oggi siamo incontrati alle 5 Alle 8 abbiamo spento Perché non trovavamo un cazzo Di nulla Cioè Non so come si può fare Si possono fare dei video così ragazzi Cioè avevamo registrato di tutto Di questo passo però E questa è una grande Grande rottura di coglioni Grandissima Che tra l'altro Vi dico sinceramente Mi sta un po' demoralizzando Perché Quando passi tutta la giornata Ragazzi A provare a registrare un video E poi non registri nulla Vi giuro è demoralizzante Cioè vi giuro È una cosa che vi demoralizza Perché avete perso tempo Io ho perso del tempo Oggi Invece che cazzeggiare Fare altro Giocare tranquillamente Ho perso tutto il tempo A cercare partite Non trovavo un cazzo Perché eravamo in gruppo Quindi di conseguenza Ho perso del tempo E mi sono demoralizzato È una rottura di palle Nel senso di essere Troppo volgare Molto molto grande Molto 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 grande Però vabbè Comunque raga In compenso Sta andando bene Sono contento So che state guardando i video Vi vedo sempre più attivi A commentare È una cosa che mi fa molto piacere Mi sto divertendo Perché il gioco alla fine Mi piace Sto dormendo un po' poco Infatti ripeto Forse si vedrà Però niente raga Va bene così Io spero che continuate A seguire i miei video Perché almeno fin quando Caricherò così spesso Con questa frequenza Poi quando mi rallenterò un po' Cioè alla fine ci sta Raga Possiamo continuare Due video al giorno per sempre Niente Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Fatemi sapere un po' Come stanno anche a voi Io vi dico già che a breve Appena sistemo i server Vi porto di tutto Perché tutto quello Che vi avrei dovuto portare Che non vi sto portando Lo sto tenendo da parte Ho anche in mente Una serie molto carina Che penso vi piacerà Non vi spoilerò nulla ovviamente E niente raga Ci becchiamo domani Alle 13 con un nuovo video Bella